Ciao, sono Francesco Lanino, capo missione dell'ONG Coop qui in Libano e partner del Gioca al Gino. In questo momento mi trovo nell'ex centro commerciale al Uau, dove stiamo aiutando 200 famiglie siriane e 800 bambini scappati dalla guerra. Grazie alle vostre donazioni potremmo costruire un campo sportivo e restituire un sorriso a questi bambini che non hanno nessuna cura. Grazie a WISP e un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti del Gioca al Gino. A presto! Shukrai!